Qual è stato l'incontro con l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani? Come è avvenuta? Allora, per due o tre volte ho aiutato la squadra Italia quando andava sia a Las Vegas e anche a Arizona, un po' di aiuto loro anche per fare translator, ma anche per trovare la materia prima quando è arrivato, il primo gruppo era Luca Manori, Cristian Beduschi, Luigi Piazzetto era allenatore e c'era Alessandro Willi e dopo quello ho aiutato anche quando è venuto giù Fabrizio Galla e Diego Frosara e Davide Melizia e in quel momento là Giglio Massari ha chiesto che era un onore enorme Alessandro Willi fa parte dell'Accademia con il mio amico Sette Pani e siamo i due imparatori ampi dei statuti